Allora, facciamo un po' di chiarezza perché certe cose mi danno anche un po' fastidio e poi vanno a ledere un pochino quello che potrebbe essere il futuro della Roma perché da qualche giorno è uscita questa notizia che Mourinho non sarebbe contento di come la Roma si starebbe muovendo nel calciomercato attuale o meglio non sarebbe contento dell'immobilismo della Roma in questo calciomercato Beh, vi posso dire la mia, non è che io sia poi così convinto di quello che si dice posto poi che quello che viene riportato di Mourinho sia vero perché è comunque una visione giornalistica e i giornalisti se possono buttare merda su Roma lo fanno molto volentieri in quanto visione giornalistica, in quanto interpretazione quotidiana, di un quotidiano allora ci tengo a mettere in chiaro un'eventuale situazione però facciamo chiarezza un attimo perché c'è bisogno di fare chiarezza perché c'è bisogno un attimo di fare un punto, un recap di capire se effettivamente Mourinho può essere arrabbiato su come la Roma si sta muovendo nel calciomercato estivo 2022-2023 prima di iniziare iscrivetevi al canale se non l'avete fatto il 40,5% di chi mi segue non è iscritto al canale è una cifra molto alta, già che lo fate seguitemi, ci mettete un attimo, cliccate su iscriviti e a me fa molto 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 piacere vi dicevo, Mourinho, 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 Mourinho Mourinho riportano diversi giornalisti, diversi testati giornalisti che non è contento di come la Roma si sta muovendo allora facciamo un attimo chiarezza, siamo al 10 di luglio il 10 di luglio ragazzi, oggi è il 10 di luglio, almeno qui dove, quando io registro poi magari, solito dovrebbe uscire il 10 di luglio quindi è il 10 di luglio e come tale, come tale, ci tengo a sottolineare il fatto che il mercato inizia da 10 giorni che potrebbe essere una giustificazione su un immobilismo di calciomercato però manco troppo perché ci sta anche dire le preparazioni atletiche sono già iniziate per alcune squadre, per altre iniziano da poco ieri la Roma ha giocato un amichevole contro il Trastevere di cui ho parlato, il video lo trovate qua ha giocato Svilar, ha giocato Matic quindi insomma, capita che Mourinho vorrebbe già inserire i futuri titolari all'interno della squadra e vorrebbe fare la preparazione atletica con tutti e secondo me, come situazione, è più che giustificata come discorso, ci sta, è fattibile cioè per me è una squadra che si muove bene una squadra che è intelligente nel fare calciomercato deve muoversi con coniezioni di causa sì, ma sicuramente con... per tempo per tempo, ecco, la parola chiave è per tempo perché tutto gira intorno al tempo se tu riesci a muoverti con tempestività e riesci a fare una squadra che poi parte tutta insieme per la preparazione atletica allora vorrei dire che quando si arriva tutti al top tutti insieme arrivano al top e non che un giocatore arriva al top rispetto a un altro che magari non ci arriverà mai perché ha saltato tutta una parte di preparazione è normale che gli acquisiti di gennaio siano diversi rispetto ai calciatori che hai in rosa e che cambino da stagione a stagione perché fanno un'altra preparazione con un altro allenatore con un'altra indicazione tecnica con un'altra preparazione tattica e ovviamente è giusto avere tutti i calciatori subito poi che c'è in Trasemitici preferisci prendere oggi che ne so Barro o preferisci prendere l'ultimo giorno di mercato di Bala è normale che vi dico di Bala però è giusto anche che il mercato si faccia per tempo vi faccio l'esempio della Juventus la Juventus si sta muovendo per tempo la Juventus ha già preso Cambiaso la Juventus ha già preso Pogba la Juventus ha già preso Di Maria ha preso l'altro ragazzino di cui ho parlato qualche giorno fa e vi lascio il video sempre in alto nelle schede se mi ricordo insomma la Juventus si sta muovendo oggettivamente nel calcio mercato i bianconeri si stanno muovendo e la Juventus è arrivata quarta ed è la linea tracciata per arrivare in Champions l'obiettivo dichiarato della Roma in futuro della Roma del progetto triennale della Roma di Mourinho e quindi mi risulta abbastanza facile da credere che Mourinho si faccia girare un pochino i coglioni proprio per quanto riguarda le altre che si muovono guardate l'Inter che è arrivata seconda l'Inter che è arrivata seconda ha già preso Lukaku e regà hai preso Lukaku? basta da sé è come se avessimo preso noi Di Bala basta da sé non l'hai preso e loro hanno preso Lukaku hanno preso anche Bellanova in realtà è vero che il Milan non si sta muovendo molto ha preso solamente Orighi e non ha ancora sostituito che sì non ha preso ancora il centrocampista non ha preso il trequartista non ha preso l'A però ragazzi il Milan è la squadra campione d'Italia il Milan è arrivato primo sicuramente se non si rinforza bene rischia di perdere terreno perché l'Aviva ha preso Pogba e Di Maria e l'Inter ha preso Lukaku sicuramente sì non lo metto in dubbio però dall'altra parte permettetemi anche di dire con chiarezza più limpida che mai che va considerato anche il fatto che il Milan era primo la Roma è arrivata sesta la Roma è arrivata sesta e quindi c'è importanza nel dover recuperare quei punti cosa che la Lazio sta facendo detto ciò però permettetemi anche dall'altra parte di dire che non credo che la Roma sia immobile nel mercato cioè il mercato è iniziato da 40 giorni circa ufficialmente da 10 ma è iniziato da 40 giorni perché per me giugno è stato un mese di mercato io ho parlato più di mercato a giugno rispetto che a luglio perché a giugno c'è stata più carne al fuoco e perché a giugno i primi movimenti sono sempre quelli un po' più focosi un po' più importanti però la Roma ha preso già tre calciatori anche se li aveva già ampiamente bloccati però li ha presi uno è Svilar che sarà il secondo portiere portoghese l'ha voluto Mourinho un altro è Matic che è il secondo calciatore con più presenze di Mourinho Mourinho non ha cioè ha avuto Lampard e subito dopo Matic è il secondo calciatore con più presenze nella storia di Mourinho nella sua carriera da allenatore e il terzo acquisto già fatto è stato quello di Selic cioè il vice Karsdorp quindi non credo personalmente che la Roma si stia muovendo a rilento abbiamo bisogno del trequartista questo sì soprattutto se partirà Zaniolo abbiamo bisogno di un vice Abram questo sì e in difesa probabilmente siamo a posto così un difensore centrale non arriverà se giocheremo a quattro perché abbiamo già Kumbulla, Ibanez, Smalling e Mancini quindi è difficile pensare che giocando con due titolari ne prenderai un altro cioè ne prenderai prenderai cinque difensori centrali è un numero abbastanza alto e sicuramente arriverà il centrocampista stiamo trattando per frattesi se dovesse saltare la Roma andrebbe su a UAR che scade l'anno prossimo e che adesso ha una valutazione pari a 15, 16, massimo 18 milioni di euro e quindi i movimenti di mercato della Roma attualmente secondo me non sono stati limitati non sono stati bassi non si è andati verso un calciomercato a risparmio per questo io penso che difficilmente Mourinho si stia lamentando del mercato poi indubbiamente sarebbe bello prendere Ronaldo, Di Bala e Coulibaly ma in questo momento probabilmente non fanno parte del progetto futuro della Roma un progetto che Mourinho ha firmato sapendo a cosa si sarebbe andato incontro perché io sicuramente penso che a Mourinho gli abbiano promesso che arriveranno calciatori forti che lui vorrà infatti appena è andato a viaggiare che è arrivato a Abram ha pagato 40 milioni di euro senza troppi problemi adesso stiamo cercando di prendere frattesi abbiamo comunque fatto degli acquisti importanti anche a livello economico la Roma non si è mai risparmiata soldi nelle proprie tasche l'Inter tra l'altro si ha preso anche Michele Darian me lo stavo scordando ma l'abbiamo perso noi e sicuramente la Roma dovrà andare a spendere però secondo me in questo momento siamo in linea con le pretese e con le richieste, con quello che mi aspettavo cioè io non mi sento immobile sul mercato anzi mi sento piuttosto contento di come la Roma si sta muovendo ora spero di prendere frattesi spero di prendere magari un difensore che ve l'ho detto se no me non lo prenderemo ma io lo prenderei spero magari di prendere un fottuto Belotti come vice Abram che non sarebbe male e poi magari il colpaccio in queste ore pare che Mourinho spinga per provare a prendere Paolo Di Bala ma magari ma magari c'è casca Mourinho vuole solo Di Bala e oggi Massimo Mauro addirittura ha detto che lui vedrebbe molto meglio Di Bala alla Roma rispetto che all'Inter dove partirebbe dalla panchina effettivamente è così cioè nel senso non sarebbe un panchinaro ma si alternerebbero tanto Di Bala Lautaro e Lukaku perché sono tre e da quello che ho capito visti anche le priorità all'Inter non ha l'idea di giocare con il 3-4-2-1 con i due trequartisti pesanti Lautaro e Di Bala con Mkhitaryan e Celanoglu in panchina come avevo preannunciato io ma si alterneranno qualora le prendessero tutti e tre e quindi Mourinho vuole Di Bala però almeno la cosa che mi fa contento è che se ne parli lo scorso anno rompevo un po' i coglioni durante l'anno quando Mourinho si lamentava nelle sue conferenze stampa e andava a dire è perché non abbiamo il difensore è perché abbiamo venduto Juan Jesus è perché non abbiamo preso il terzino è perché non abbiamo preso il trequartista io ero il primo a dire sì Mourinho bravo però è lamentate quando c'è da lamentasse chiedi quando c'è da chiedere non chiedere quando il mercato è chiuso non chiedere ad affare fatto perché quando Juan Jesus è stato venduto dal Napoli tu hai dato il benestare visto che ti abbiamo preso che era marzo cioè non è che ti abbiamo preso a settato ad agosto o che sei arrivato a campionato in corso è stato preso due mesi prima dell'apertura del mercato quindi Juan Jesus ti poteva ancora rinnovare se tu avessi scelto di rinnovare Juan Jesus ce l'avresti avuto ma Juan Jesus vale tanti altri nomi lo scorso anno Mourinho si lamentava molto io dicevo tutto molto bello è giusto spronare la società a prendere i giocatori più forti però per non destabilizzare l'ambiente per non creare una situazione che secondo me è inutile da creare prova quantomeno prova a farlo durante il calcio mercato e se è vero che in questo momento Mourinho è insoddisfatto è giusto secondo me e io sono dalla parte di Mourinho come sempre è giusto che lo faccia vedere in sessioni di mercato e quindi quando si può si può provare a comprare calciatori per soddisfare quello che vorrebbe avere Giuseppe Mourinho e quindi in questo momento come hai già detto io sono dalla parte di Mourinho posto poi che Mourinho si sia lamentato perché mi sembra strano visto che la Roma si sta muovendo bene si sta muovendo come Mourinho Mourinho vorrebbe e tutto sommato io non posso dire nulla contro il movimento e i movimenti attuali della Roma l'unica cosa che mi piacerebbe è un colpo cioè a me piacerebbe prendere un gran giocatore un colpaccio ora non dico ripeto Ronaldo però anche un Di Bala alla piazza Roma farebbe bene cioè un gran nome alimenta anche la voglia noi la voglia ce l'abbiamo già abbiamo fatto il tutto esaurito allo stadio anche l'anno scorso a Roma-Venezia con il Venezia già retrocesso tra l'altro contro cui abbiamo pareggiato tra le altre cose però noi siamo sempre molto focosi però sarebbe bello alimentare questo fuoco che già c'è ma sarebbe bello che lo facesse anche la società con una risposta magari simile o pari ma anche leggermente inferiore ci sta a quella data con Mourinho lo scorso anno ti vuoi prendere Di Bala e quindi dimostrare che fai sul serio cioè non sarebbe male anche perché da quello che si legge in giro Mourinho sta spingendo per prendere Di Bala e allora che cosa aspettiamo proviamo a prenderlo sarebbe bello sarebbe bello fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale mi raccomando qualora non l'avete già fatto vi ricordo che la programmazione attuale dei video è quella che vede i video uscire alle 13 alle 18 e 30 e a mezzanotte 13 18 e 30 mezzanotte 13 18 e 30 mezzanotte io vi ringrazio per aver visto questo video iscrivetevi al canale buon channel all'alene come sempre ci vediamo al prossimo video